Musica 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 L'attore si è trovato a distribuire dei volantini a Queen's Way vicino a un ristorante greco vestito tra l'altro da antico greco con fustanella e calzamaglia bianca che non è il massimo del sogno di un attore però è un attore e torna indietro a Roma perché Grazia lo chiama per fare un corso di teatro lui si aspetta di trovarsi davanti appunto delle persone giovani come lui e invece Grazia gli ha preparato questa sorpresa per cui i suoi allievi saranno dei 60-70 anni e poi Teresa invece che è la nipote di Grazia questa ragazza più grande di lui trentenne che lui trova ogni lunedì uscendo appunto dalla sua lezione se la trova lì che fuma una sigaretta e la guarda come una creatura esotica perché è una ragazza bella attraente ma ha 30 anni per lui per quel gradino che c'è tra un ventenne e una trentenne è già parecchio di esotismo e di distanza anche se non è una generazione diversa naturalmente però la vede come una creatura misteriosa anche un po' brusca, burbera questo lo attrae perché la vede più difficile delle sue coetanee anche da conquistare l'appuntamento ricorrente del lunedì consente loro di vedersi sempre ma di non guadagnare troppo velocemente appunto quel bacio non faccio uno spoiler particolarmente drammatico arriva verso pagina 130 e qualche cioè ci mettono un bel po' pur essendo giovani i due protagonisti prima di decidersi a darsi un bacettino ci mettono un sacco di tempo forse non avrei scritto, questo lo dico sinceramente, una storia d'amore perché non è nelle mie corde il romanzo rosa, sentimentale che rispetto molto ma non lo so proprio fare quindi mi sembra già strano aver scritto una storia d'amore e allora ho messo quei due avverbi a fila che hanno un valore di understatement ironico quasi solo d'amore ma anche perché tutto sommato è quasi solo d'amore come abbiamo detto c'è il teatro, c'è la distanza generazionale mi piace di te questo essere adulta la tua testa di meccanismi complicati come un orologio piccole ruote dentate viti, rocchetti, leve e anelli niente di più misterioso e di più perfetto e certo uno poteva aver visto nascere i fiammiferi e la locomotiva a vapore il primo lampione ad elettricità il telefono, il televisore o il primo computer grosso come un comodino ma nulla poteva essere più stupefacente di te stasera davanti a me è una strana, un po' sghemba se vuoi alleanza tra esseri umani in età diverse della vita io a questa credo molto voglio dire non è per dire qualcosa di così di dolciastro ma perché credo e comunque mi è capitato di sentire la possibilità di dialogare con persone che avevano il doppio dei miei anni se non il triplo in certi casi ma di dialogare da pari a pari davvero quando però quell'altra persona si disponeva a mettere in gioco anche il ventenne che conteneva quando cioè come a un certo punto del libro viene fuori la signora Laura tira fuori da sé anche la signorina Laura e a quel punto la signorina Laura riesce a danzare con con Nino cioè danzano così dall'esterno tu vedi un ventenne, una ottantenne, una settantenne ma in realtà in quel momento forse stanno danzando due ventenni quando è che siamo diventati stronzi? come abbiamo fatto a non rendercene conto? qualcosa sopravvive il talento che diventa mestiere più raffinato, più disinvolto ma lo stupore e l'attenzione autentica, profonda che ci teneva incollati alle cose per ore alle scoperte della vita intellettuale alle parole degli sconosciuti un po' a tutto resta come un piccolo guscio di noce al centro di noi dove il meglio di cui siamo capaci è al sicuro è la parte più viva e più umana mentre il resto precipita nell'incuria e nel degrado i principi, non è sta il nostro stesso corpo qualcosa ancora laggiù emana calore ma non basta non brilliamo più qualcuno da lontano scambia per luce vera il neon freddo e stelle del saperci fare che rapporto c'è tra il teatro e la stronzaggine? punto primo e secondo se la stronzaggine riguarda solo ed esclusivamente il teatro tutti un po' alla fine ci sappiamo fare ce la sbrigliamo anche facilmente con l'esperienza ma dov'è quel nucleo autentico che sta all'inizio di noi? non lo so dove finisce che cosa gli succede effettivamente ma mi preoccupa molto mi preoccupa come cosa proprio sostanziale dell'esistenza questo tema dell'autenticità so che non lo risolverò mai so che comunque sbatto la testa su questa idea stessa di autenticità e allora con il doppio salto mortale senti che a teatro questo tema diventa ancora più visibile vorrei dire perfino tangibile perché tu ti chiedi che cos'è autentico dove regna l'inautentico che cos'è reale dove regna la finzione che cos'è reale dove regna la finzione che cos'è reale dove regna la finzione